Siamo presso l'hotel Meridiana di Capaccio Pestum in compagnia dell'architetto Giuseppe Greco, presidente del consorzio degli albergatori Pestum Inn. Per fare proprio il punto della situazione per quanto riguarda le strutture ricettive ai tempi del coronavirus, quali saranno le disposizioni da rispettare per poterle riaprire? Le disposizioni praticamente sono quelle che sono state emanate sia a livello nazionale che a livello regionale. Noi stiamo adeguando tutte le strutture, abbiamo quasi tutti proceduto la sanificazione, stiamo organizzando gli spazi comuni per il distanziamento con attenzione verso tutti quelli che sono i protocolli di sicurezza necessari che ci sono stati, per così dire, suggeriti e cui noi chiaramente ci adeguiamo per il rispetto sia dei nostri ospiti che dei nostri collaboratori. Quali sono state le difficoltà più grandi che sono state riscontrate proprio dai gestori delle strutture ricettive anche in vista dell'estate 2020? Le difficoltà più grandi innanzitutto sono state riformare tutto il personale, organizzare gli spazi di reception, organizzare le informative per i clienti e soprattutto fare tutto questo sapendo che a tutt'oggi le prenotazioni purtroppo non sono moltissime o per così dire per il momento sono esclusivamente per il mese di agosto. Come immagina una festa nei prossimi mesi o anche nelle prossime settimane? Per quanto riguarda le feste o il wedding in generale stiamo lavorando proprio con la regione Campania che nell'ultima riunione che ha fatto con le associazioni di categoria si è impegnata a fornire delle indicazioni che dovrebbero essere pronte per metà mese di giugno. Noi abbiamo fatto le nostre proposte soprattutto perché le feste e i matrimoni sono normalmente eventi di socializzazione quindi adeguarli alle strutture, alle necessità di distanziamento è un po' complicato soprattutto per quanto riguarda il discorso di buffet che chiaramente non sono permessi e le eventuali attrazioni musicali presenti in queste occasioni che chiaramente per quest'anno dovranno essere sospese e non realizzate. Questo anche se diciamo che l'80% delle cerimonie previste per quest'anno sono state spostate quindi a meno che dopo l'uscita a metà giugno delle nuove direttive in materia di eventi a meno che qualcuno non decida di sposarsi o di fare il proprio evento nei mesi di settembre-ottobre tecnicamente il tutto è stato rimandato al 2021. Il settore turistico comprende tante figure professionali, quali sono proprio i danni anche in termini economici che queste persone si ritrovano a subire data l'emergenza Covid-19? I danni purtroppo sono notevoli perché tecnicamente noi a giugno abbiamo perso più del 60% di tutto quello che era il lavoro e non sappiamo se la tendenza si invertirà o come le nostre previsioni ci porterà a un calo di circa l'80%. Ma il danno maggiore non è esclusivamente delle strutture alberghiere ma di tutta la filiera perché noi fra ricettività e wedding praticamente siamo uniti a tutte le aziende enogastronomiche della zona a tutti i dipendenti stagionali, a quello che è il settore praticamente fotografi, addobbi eccetera eccetera quindi il danno su questo è notevole. Lo Stato ha previsto di sgravarci alcune tasse per quest'anno ma noi riteniamo che ciò non sia sufficiente e anche grazie al nostro sindaco ci stiamo attivando per poter ottenere dalla regione Campania delle sovvenzioni in conto interessi e in conto capitale per poter proprio far fronte a questo discorso che al di là di vedere la proprietà danneggiata ha una valenza sociale molto importante. Noi abbiamo chiesto anche al Consiglio regionale di fare in modo che possiamo assumere più persone che gli eventuali contributi dati alle persone esclusivamente perché non lavorano possano essere magari gestiti dall'azienda in modo da far lavorare questo personale mettendoci la differenza e formarlo anche. Mafalda Inglese è presidente dell'associazione Parvares che promuove il movimento culturale Italia Emotional Way che si occupa proprio della promozione dei piccoli territori dell'entroterra cinentano. Ecco, come questa crisi dettata dall'emergenza coronavirus può rappresentare l'inizio di un ritorno verso il turismo nelle aree interne? Sì, già da diversi anni le aree interne rappresentano una meta turistica per gli italiani ma soprattutto per gli stranieri e quest'anno in particolar modo vengono privilegiati i territori dove è possibile svolgere un turismo, delle visite o addirittura una permanenza più lunga nella sicurezza data dal distanziamento fisico, non sociale, speriamo, a cui l'emergenza covid-19 impone. C'è da dire che noi siamo a Pestum, quindi l'area interna a ridosso di Pestum è una parte del Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano che si chiama la Valle del Calore. Bene, la Valle del Calore rappresenta una perla di questi territori in cui la densità abitativa è sicuramente molto bassa, i vari territori, i vari comuni sono già bene organizzati per l'accoglienza e quindi insieme all'attrattore principale Pestum e insieme agli albergatori di Pestum potrebbe davvero rappresentare una meta importante in termini sia di viaggio ma anche di permanenza e di conoscenza di un territorio che ancora ha molto da offrire nella sua autenticità e nella sua produttività di tradizioni, folklore e paesaggi da scoprire proprio in una visita post-covid. Tante idee dunque da sviluppare in collaborazione con gli albergatori di Pestum da sempre abituati a ricevere tante persone per far loro appunto ammirare le bellezze di questi posti. Sì e infatti non si è fatto attendere l'adesione degli albergatori ed è per questo che siamo in questa location oggi in quanto sono molto motivati ad accogliere una progettualità composta da tutte le parti sociali da quelle amministrative, dalle associazioni culturali come nel caso del nostro movimento Italia Emotional Way al fine di svolgere un lavoro progettuale in sinergia e poter offrire alla popolazione delle aree interne, costiere, comunque alla popolazione dei nostri territori delle nuove opportunità economiche, produttive di stare sui territori mediante l'accoglienza di quelli che saranno i visitatori e che noi attendiamo a braccio aperto.